E' un accendino arancione con super scritto Oh regalo, sapete che sono io? Il guardiano dell'accendino, no? Ti ricorderei che il 20 aprile è fra tre giorni Perché? Che succede il 20? Ma che cazzo dici? Chiamare la polizia? Siamo in casa di uno sconosciuto con due quintali di erba Ma avete un'ida migliore? Vi state facendo inseguire anche voi da un pazzo psicopatico? Come? 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 Come?